Missione compiuta per l'Amenzba che fa un figurone in una delle due semifinali della Final Four di Coppa Toscana che ha avuto l'onore di ospitare al palaestra di Arezzo la squadra di coach Millie riuscita a superare la corazzata Cea Siena che in campionato era riuscita a prevalere all'extra time. 81-68 il risultato finale per l'Amenzba e accesso dunque alla finalissima per il titolo regionale per scrivere un'altra indimenticabile pagina della storia della pallacanestro a retina. Avversario sarà domenica alle 16 l'Olimpia Legnaia Basket Firenze che nell'altra semifinale ha superato in un'infinita battaglia lo Spezia Basket Club per 99-98 dopo ben tre supplementari. Arezzo TV trasmetterà come sempre entrambe le sfide, domenica in prima serata la semifinale vinta con Siena e martedì sera la finalissima.